La zona è quella compresa tra la scuola Ferrarin, la stazione delle autocorriere e l'area agricola ubicata nelle vicinanze di via delle Robinie. Servizio di osservazione e controllo degli agenti di polizia locale nord-est Vicentino che ha permesso di intercettare il momento dispaccio. Attiene sabato verso le 19. Tre pusher a bordo di una Volkswagen. Avevano fatto salire un giovane al quale hanno venduto della cocaina. I tre sono due giovani di 20 e 23 anni di tiene e una ragazza di 21 anni di piovene e rocchette. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati 87 grammi di marijuana, una dose di hashish, una dose di cocaina, nonché 550 euro in banconote da 50 a provento dell'attività dispaccio. Denunciati in stato di libertà per l'attività illecita di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. segnalati invece alla prefettura di Vicenza anche 10 acquirenti con sequestro di 115 grammi di marijuana, 4 spinelli, 2 dosi di cocaina.